Il centro-sinistra ha una incredibile opportunità di vincere se riesce ad essere unito e forte. Parole e musica sono di Michela Fanelli e la metafora calcistica che sentirete serve a lanciare un chiaro messaggio ai compagni di coalizione, no ai personalismi, sia al gioco di squadra per battere l'avversario alle prossime regionali. Bisogna quindi lavorare di squadra, ognuno può avere ambizioni, aspettative, può dare le legittime disponibilità. Prima abbiamo detto che il PD ha un ruolo da player all'interno della coalizione e credo che ognuno all'interno di un gruppo che funziona ha ragione di pensare che può giocare in attacco, può giocare in difesa, può giocare in porta. Ma la squadra funziona se tutti si mettono al servizio di questa, magari dell'allenatore, ma sicuramente dei tifosi, dei cittadini molisani. La consigliera regionale del PD è tra i candidati a ricoprire il ruolo di leader della coalizione insieme a Greco e Facciolla, ospite di conto alla rovescia, indica, come già fatto dal segretario dei DEM, nelle primarie il metodo per coinvolgere i molisani in una scelta decisiva. Credo che la partecipazione, come dicevo, porti alla condivisione e quindi porti alla vittoria, ma porti sicuro a rappresentare meglio le opinioni dei cittadini. Oggi dobbiamo sempre ricordare che non sono i partiti vertici che scelgono il miglior candidato o la migliore candidata, è il popolo che si esprime, se tu riesci ad anticipare i bisogni e le aspettative, è in sintonia col volere popolare. Non meno agitate le acque sull'altro fronte con le fibrillazioni nazionali che si riverberano sui territori. Gianluca Cefaratti, eletto in consiglio regionale con orgoglio molise, seconda lista della coalizione che ha sostenuto Toma, sta lavorando ad una sua ricandidatura. Noi stiamo lavorando, io sto lavorando per una mia riproposizione personale sicuramente. Chiaramente io sono stato, inutile negarlo, un'anima critica sin dalle prime battute di questo centrodestra. Ma guardi, non per fare polemica o per spirito di non appartenenza ad un gruppo politico. Sono e parto dal principio che bisogna dialogare, bisogna dialogare anche con la parte avversa, perché quando le proposte sono buone, al di là che vengano dall'una o dall'altra parte, secondo il mio parere, se sono favorevoli ai cittadini e al territorio, vanno accolte nella misura in cui devono essere accolte anche dall'altra parte politica le misure della maggioranza e le proposte della maggioranza. Questo non sempre è avvenuto e questo, voglio dire, ha portato a far sì che alcune volte le mie posizioni sono state differenti rispetto a parte della maggioranza. L'area di centro è forte, dice il vicepresidente del Consiglio regionale, e dunque l'ipotesi di un terzo polo è tutt'altro che naufragata. Ma per vincere, Isernia Docet, il centrodestra deve essere unito affinché ciò accada. Roma, il pensiero di Cefaratti, deve decidere insieme alle realtà locali che devono far parte del confronto e devono fare sintesi con i grandi partiti. L'ho detto sin dal primo momento che colui che sarà il candidato deve essere dialogante, deve avere capacità d'ascolto, ma il centrodestra, se vuole avere ancora una speranza, deve puntare anche ad avere un candidato che in qualche maniera venga lo scoperto subito. Io le dico con assoluta chiarezza, a mio giudizio deve essere individuato in tempi rapidi. Io le dico con assoluta chiarezza, a mio giudizio deve essere individuato in tempi rapidi. Io le dico con assoluta chiarezza, a mio giudizio deve essere individuato in tempi rapidi.